Salve a tutti! In elettronica Sono ignorante nei computer Ma non c'è niente di male Non è che possiamo sapere tutto dalla vita Ma sta cosa qua Mi ha un po' rotto il cazzo E nessuno ne parla Ma la vogliamo dire? Io lo dico bello chiaro Mercoledì non è di Tim Burton Porca troia Che avete rotto il cazzo Non è suo Gli autori del programma Che hanno scritto gli episodi anche Eh Tim Burton è geniale No Sono Mice Miller e Alfred Gog Produttori Scrittori Ideatori della serie Siccome sanno che c'è gente come voi Che non capiscono un cazzo Giustamente hanno preso Tim Burton Come anche Nightmare Before Christmas Passati 27 anni E ancora c'è gente testa di cazzo Che pensa che è di Tim Burton Perché c'è soltanto scritto Tim Burton No Non è di Tim Burton E di un'altra persona Tim Burton già l'hanno buttato fuori A caccia in culo la Disney Perché non lo aveva più Quindi hanno detto Ci teniamo il nome Così la gente va più Proprio la gente scema Ci va Ma lì potevo capire Negli anni 90 Che non c'era la L'internet Che ti andava a informare Ma vi costa tanto Anziché andare su TikTok A fare i coglioni A vedere la squicciare A vedere quattro troie Che ballano Perché cazzo Non vengono informare Su chi cazzo L'ha fatto sta serie di tv Ma ci vuole tanto Andare a vedere Guarda Ci vuole tanto Eh Facevano una scienza E che Cristo Quindi hanno preso Tim Burton Ma solo per dirigere Quattro puntane Non ha fatto niente Non si è occupato Dell'ambientazione O di come è stato curato Il tutto Di come Ti è stato a scegliere Genna Ortega Tim Burton è stato bravo A scegliere Genna Ortega No No Non l'ha scelta lui Ma invece Però Cristiano Ricci Sta chiamato Perché Tim Burton Ha voluto Sì 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 No Non c'entra un cazzo Sempre gli autori Perché Per rispettare Anche il personaggio Di Sinicci Perché non è Né morta È ancora presente Ed è ancora Una bellissima donna Hanno detto Parteci Tu fai un cameo All'interno All'interno Della serie Punto Ma Tim Burton Ma Tim Burton Non ha fatto Un cazzo Neanche Tra i produttori Che dice Sai È il produttore Secondario Niente Lui è stato chiamato Solo per dirigere Quattro puntate E poi se ne dove Andare a fare In culo Che poi sono stati girati Pure Con una pochezza Vi giuro Questi episodi Sì sono belli Nel senso Per la trama E tutto Ma sono pronunciati Da chiunque Cioè non sembrano Girati da Tim Burton Guarda che bello Si vede Che Tim Burton E gira Sembra che Tim Burton Era scoglionato Venuto lì C'è una 6-4 modal Perché mi rompo Anche i coglioni Per favore Vieni Vieni qua Genna Vieni Mettiti lì Questo Non c'è proprio amore Nel suo girato Ecco È asettico Il suo Il suo girato Ma non dica Nella serie di voi La merda Attenzione Nella serie di voi È veramente bella Mi sta indrippando pure Ma grazie a chi L'ha voluta creare Non a Tim Burton Cazzo Che avete rotti i coglioni Pure su Instagram E tutte le altre cose Tim Burton Fa sempre cose belle Tim Burton Avete rotti i coglioni Avete il telefono in mano Avete telefoni da 2000 euro E non siete capaci Neanche a vedere Chi cazzo l'ha fatta Io mi vergognerei Mi vergognerei Io ho detto questo Vi saluto Fatemi saluto Se anche voi Non siete Quelle persone lì Anche se alcuni iscritti Non dico il nome Però vabbè Lo perdono Perché è iscritto al canale Alla prossima La postilla Mi stavo dimenticando Dice ok L'ignoranza Forse sarà Soltanto per le persone No Anche per i siti specializzati Che dicono Tim Burton Era meglio E non lo facevi Mercoledì Mortacci vostri Che prende Siete pagati Per dire notizie E dite Cazzate Dite Sui siti Perché una persona Che non capisce Un cazzo Si vede davanti Una notizia del genere Che dice Tim Burton Non dovevi farlo Ma Tim Burton Non ha fatto un cazzo Perché se Tim Burton Diceva di no Alla regia Avrebbero perso Qualcun altro E mercoledì Sarebbe uscito Andate a cagare Pure questi siti Di merda C'è bisogno Io di capirla E portarvela La verità Bah E ora che Mi iscritto E cazzate qua sotto Mi sfidate Io Arrivo e vi commento Dite cazzate Non vi dovete Mettere a dire cazzate Perché sto dicendo Le cose come stanno Scritto Su Wikipedia E Google Che cazzo L'ha fatta Stasera Non c'entra un cazzo Tim Burton Vedi rotti i coglioni Sembra ad alzare Una persona Che non ha fatto niente Ma perché non mi alzate Pure a me Che ne so Per la cura Di qualcosa Di un medicinale E dici Grazie a me Ne esiste il Viagra E se giriamo Stasera notizia Grazie a me C'è il Viagra In giro Per favore Ma non siate Veramente Che schifo Veramente Che vergogna Io mi vergogno pure Forse la gente Si basa Ecco Sulle stronzate Che scrivono Un po' più esperti Ma anche su cazzate Anche sulla tecnologia Di amici miei Che dicono cazzate Di quello che l'ha fatto l'altro Quelli che chiudono Per favore Basta dire puttanate Per piacere Che mi sono un po' Lotti il cazzo No parla Leggono una stronzata E subito E subito la danno Per verità Mettetevi sotto A indagare Ma non vi piace Sta cosa qua Fate come mercoledì Indagate Scoprite Cerca di capire Che cosa ci sta sotto Nelle cose Dicendo Che c'è le cazzate Non mi ricordo Che mi hanno detto A me Mi hanno detto A me Samsung si ritira Mi mandano Questa notizia Di un sito A cazzo Che non so Ma chi Samsung non farà Più display Io da lì Non ci avevo creduto Io ho detto A questo amico mio Ma che cazzo Stai dicendo Che quello è Il secondo produttore Di display Al mondo No no Samsung si è stancato Poi un mese dopo Gli mando a questo amico mio E dico Vedi che Samsung Ha uscito Una nuova tecnologia Ovvero L'unione di Cooled e OLED E Sony ha acquisito Si è comprato I pannelli nuovi Di Samsung Questo amico mio Ha completamente Dimenticato La stronzata E ha detto Che ha fatto finta Di niente Sony Che compra i pannelli Da Samsung Che doveva Samsung Non doveva Fa più pannelli Si era ritirata C'era scritto Nella notizia Ma ritirata cosa Ma ritirate voi Le vostre stronzate Che scrivete Per piacere Che avete rotto Puri i coglioni Pure a me Detto questo Vi saluto Per piacere E la stronzata E la stronzata E la stronzata E la stronzata E la stronzata